La rapia da piocco, prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fossi un danno anche per lei, soltanto in duro, oppure in quattro anche scrivato come falina, come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia piacere. Questi signori vi stavano suonando loro, un sintrometto. No, aspetti, mi forga l'indice, eh? Allora, alzi così, guardi, guardi, guardi. Dove è il dito? Dove è che stuzzica? Che prematura? Allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, anche soltanto le tue cose come vice-sindaco, capisce? Vice-sindaco, è vero. Basta così, mi segua la commissaria. No, 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 attenzione. No, basta soppaltarti, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. No, possertati per due anni, un pochino, non anni, ma hai due. Senza contare che la supercazzola è maturata, verso i concerti con il terrabbiato a piove. No, nulla, buongiorno, signor Nicky. No, no, no. Questi signori hanno voglia di giocare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Grazie per la visione!